Secondo te quanto resterà in zona? Se si è spinto fin qui, avrà già riempito la sua tana. Ha una tana? È una dispensa. Si tiene le sue vittime a decomporre finché non raggiungono la frollatura preferita e poi se le mangia. Di solito si trova sott'acqua. E come facciamo a trovarla? Questa è una domanda da 50.000 dollari. Quanti esemplari ci sono nel tuo parco? Credi che verrà lì? Beh, gli piacciono le femmine e quella che è stata uccisa oggi era quella che aveva d'occhiato. Apro un'altra birra? Sono a posto, grazie. Con quante tailandesi sei uscito da quando sei qui? Solo una? Esatto. Non ti credo. No, è vero. E come si chiama? Ciompo. Non fare lo spiritoso. Perché? Ok, e tu con quanti americani hai avuto un appuntamento? Un sacco. Un sacco? Dai, quanti? Sei il primo con cui sono uscita. Cos'ha da abbaiare? Abbaia in direzione dell'acqua. Ha fiutato qualcosa. Che tipo di odore senti? Probabilmente è un granchio. Puzza come l'alito del signor Singh. Carrie e cipolle. Ehi, Kanya! Vieni via di lì! Che succede? No! Vieni via di là? Quanti hai avuto! Grazie.